Perfezione, alzata, palleggio dall'altra parte, giocate, doppia il palleggio, nessun punto, lo scopo di ogni coppia è sconfiggere le altre tre, fuori! Belli appoggio, complimenti, andate lontano! Sei sempre a rincorrerevi la palla, troppo spettacolo! Che cazzo andava, chi lo sa? Ok, prima coppia sconfitta, siete ancora di là voi! Appoggio di merda! Gamba sbagliata d'appoggio, alzata, sbagliata di spalle! Buola, buola, buola! Invasione a rete! Voi uscite nel palleggio, eh? Invasione a rete! Invasione a rete! Invasione a rete! Voi uscite! C'è un ultimo! Se vincite contro il fratto Santone avete vinto! A quanto pare non vincete! Vai! Che scemo! Se sono superficiali, non scemo! Di qua, di qua, di qua! È più lungo! Ovviamente è quello da non chiamare mai! A 과. Non c'è un ultimo! invasione a rete che domanda stupida ok primi sconfitti secondi sconfitti ultima coppia da affrontare niente per voi appoggio bene Santoni il tuo quadrante come fai a far punto primi sconfitti giusto un po' giù di una merda attacco inutile un po' giù orribile giusto già mi ha sbagliato appoggio attacco dal centro del campo non male che non sa staccare primi sconfitti secondi sconfitti stop 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 stop